ben ritrovati nel studio obiettivo news nonostante il tempo ancora un po certo sta arrivando la bella stagione e il modo migliore per salutare la bella stagione è un bellissimo evento che ci si terrà a corne domenica 14 aprile intitolato è primavera a corne organizzato da associazione attività e commercio e collaborazione con il patrocinio del comune di corne e ne parliamo oggi con maurizio scafidi e nea peretti benvenuti un bellissimo evento e il nome già è tutto un programma perché primavera uno si aspetta veramente il sole i colori e la gioia non speriamo sono sicuri che domenica faccio bello quindi anche previsione del tempo dovrebbe essere dalla nostra parte l'idea era quella di dare una festa di primavera al paese e cercare di far vivere di nuovo un po il centro storico perché la facciamo al centro storico cercando di usare bene piazza pinelli i portici piazza boetto via garibaldi cercare di dare un po di vitalità al centro storico che è da rivalutare visto che abbiamo anche fatto dei progetti regionali con i duc con dei soldi sono arrivati per migliorare anche il centro storico tutto questo è una voglia di coinvolgere di più il paese i commercianti con noi che siamo diciamo così l'arma che muove le cose il cuore e l'anima di corne e con le mie signore che mi danno una mano perché senza di loro non potrei fare assolutamente nulla e qui ne ha la presenta tutta questo questo pomeriggio noi presentiamo questa manifestazione che per noi è la prima l'associazione commercianti ed è stata veramente posso dire un pochino faticosa prepararla perché è difficile con tante feste in giro riuscire a mettere insieme tante persone in una domenica unica e quindi adesso lascio alle ala che vi racconterà cosa hanno trovato con chi arriverà come svolgeremo la giornata perché hanno veramente lavorato di più loro e ringrazio tutti i commercianti che ci daranno una mano quel giorno difatti ci saranno diversi vivaisti coltivatori produttori e poi non solo fiori anche arte i vivaisti sì devo dire che c'è una buona abbiamo fatto una buona scelta ve le posso anche elencare così la gente è già preparata abbiamo la floricoltura perrero che si interessa molto di più sulle piante grasse la sua specializzazione è quella vivai castagno che la sua specialità è più su di tutto esattamente come tutti gli altri però diciamo anche come specialità a cui bonsai ma anche bonsai grandi non solo bonsai piccolo eccetera quindi anche molto interessante da vedere il vivai dell'aurentis è un vivaiista a tutto tondo e il vivai ricca anche che è un altro vivaiista di tutto tondo quindi devo sempre trovare dalla pianta verde pianta fiorita da piante da poter tenere in casa e quant'altro quindi questo devo dire che ci occuperà tutta piazza pinelli e poi partendo invece scendendo da piazza pinelli arriviamo in via garibaldi nella prima parte abbiamo di produttori e abbiamo cercato di coinvolgere delle persone dove ci sia anche la qualità non solo una quantità e soprattutto che sia un produttore effettivamente il prodotto lo fanno loro si viene acquistato non produttori finti ma reali poi scendendo ci sarà delle varie addobbi fatti dai dai negozianti e entro ancora in via garibaldi ci sarà un'esposizione di fotografie prima di termine la via della via garibaldi abbiamo piazza boetto che sarà presentata con delle macchine antiche ne avremo tre non vi sto a dire che cosa così aumentiamo la curiosità delle persone ognuna di loro rappresenterà un qualcosa ci sarà il teatro aperto con un'esposizione di abiti da sposa ma già utilizzati e avremo uno che sarà del 1933 addirittura non sarà assolutamente classico quello che siamo abituati a vedere poi abbiamo del 40 48 del 50 e avanti e poi soprattutto abbiamo il nostro teatro che è il nostro fiore l'occhiello veramente è molto bello molto carino quindi un po' più c'è la possibilità di venire a Cornea per vedere qualcosa di bello queste macchine sono state portate insomma anche nel punto d'epoca e sono state portate dal signor Zana che ha un parterre di macchine non indifferente però ne abbiamo scelte in modo particolare queste tre che rispecchiano quello che noi vogliamo fare poi risaliamo su facciamo da via Arduino in via Arduino avremo tutti tantissime bancarelle che esporranno arte e creatività quello che loro amano fare e devo dire che ce ne sono di quelle veramente interessanti idem per via Maurizio Parigi che collega tra via Arduino e piazza Pinelli quindi anche quel pezzettino lì sarà tutto pieno quindi diciamo che ci sarà molta vita nella parte storica di Cornello posso dire che ne vale la pena sì senza dubbio da buon non corniatese dico che vale la pena senza dubbio lavoro ce n'è stato tanto sì lo penso comunque l'associazione dei commercianti i commercianti con i piazza sono molto attivi quindi c'è stato tanto lavoro però penso una grande partecipazione la soddisfazione è grande anche perché devo dire che quando da quando si è sparsa la voce ci sono probabilmente tante persone ci hanno cercati certo noi abbiamo fatto un lungo lavoro di ricerca eccetera però tanti e che vengono anche da fuori ovviamente non solo da Cornello sono loro che hanno cercato perché per passaparola hanno sentito hanno visto soprattutto il programma cioè non è una fiera quella che noi vogliamo fare assolutamente è dare spazio alla creatività e soprattutto a chi lavora bene ecco insomma sì è molto importante al giorno d'oggi ho visto che c'è anche l'apertura straordinaria della chiesa di San Giovanni perdon mi sono dimenticata ecco questo scusatemi chiedo scusa ma un programma è ricco eh non è semplice ricordare tutto però male che non ho no è vero c'è la chiesa di San Giovanni che spesso e solente è dimenticata invece è una chiesa molto molto carina con dei quadri molto importanti interessanti e di fronte ci sarà l'esposizione del Carlin Bergoglio quindi con i loro quadri gli artisti chiedo scusa al Carlin Bergoglio ma veramente come ho detto il programma è veramente ricco e ci sono tante cose quindi non è sempre semplice ricordarsi tutto e quindi è bellissima questa cosa di unire i fiori la primavera la creatività all'arte e rendere viva Cornello e c'è l'arte che porta quella che viene già dalla natura stessa e quella che invece poi l'uomo la elabora se penso che un signore che mi ha telefonato appunto questa mattina per venire mi ha detto io faccio un po' di tutto e gli ho chiesto qualcosa ma l'altro giorno avevo una pentola in mano e ho creato un orologio quindi mi sembra che più arte di quella insomma sì infatti una bella scommessa anche questa vi aspettiamo domenica mattina dalle 9 e fino alle 18 di domenica proseguirà stiamo ancora aspettando delle risposte per degli piccoli eventi che potrebbero essere presenti durante questa manifestazione ma purtroppo per questioni organizzative avremo solo delle risposte giovedì quindi può darsi che ci siano anche delle cosine simpatiche all'interno della manifestazione noi è una cosa la prima edizione siamo anche noi un po' da capire un po' di cose in più ma siamo pronti ad affrontare come al solito ogni situazione ringraziamo la collaborazione che c'è comunque con il comune con l'assessore con il sindaco che ci danno una mano cerchiamo di farci tutto quello che è possibile realizzabile anche da parte loro perché capiamo che le difficoltà ormai sono per tutti e per tanti e poi è bello provare a fare una cosa diversa cioè noi ci stiamo divertendo poi visto che hai anche il patrocino della Regione Piemonte del Consiglio regionale quindi la validità dell'evento sì abbiamo una bella collaborazione riusciamo anche a presentare più cose e quest'anno questa è la seconda prima edizione di un altro evento perché il primo abbiamo fatto quella della fotografia abbiamo fatto quella della fotografia che è stato bello è stato anche ben ricevuto da una persona che abbiamo avuto un bel pubblico e anche tanto e questa è la seconda prima che viene ad aprire amiamo le sfide sì ci piace un po' adesso aspettiamo la terza prima perché non c'è due senza tre quindi ci vuole un altro in cantiere in cantiere per luglio ma non possiamo dire nulla no 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 adesso è ancora presto l'associazione conferma quello che ha fatto bene negli altri anni quindi avremo delle occasioni di incontro con il nostro paese nel periodo di Natale a partire ad ottobre abbiamo più di un appuntamento da mandare avanti quelli sono mai storici perché sono diventati già al terzo o al quinto appuntamento quindi riusciamo già ad avere anche il secondo con Weiner quindi avremo anche sì è già sconti ma anche fuori abbiamo avuto anche scontri fuori ragione quindi cioè noi crediamo a Cornier anche se lei dice che erano di Cornier io non lo so di Cornier però vivete Cornier abbiamo preso a cuore a Cornier certo no quella è la più importante ci lavoro tantissimi anni come ha fatto Neana anche lei però abbiamo poi abitiamo qui a Cornier noi poi abbiamo le nostre vite sono qua e quindi quando qualcuno ci dà qualche cosa è mezza idea perché poi queste cose nascono da idee magari così parlando si si parla e poi il nostro gruppo è abbastanza attivo non siamo tantissimi però è bello diciamo vispo anche se siamo un po' anzianotti ma siamo vispi è importante essere vispi ma e quest'idea quindi è nata così della serie facciamo qualcosa di primavera idea sì perché purtroppo delle cose storiche non si riescono più a fare e quelle cose che avevano già una visione del fiori prima in tanti paesi non si può più realizzarli per tutte queste varie problematiche allora facciamo qualcosa in primavera che sia perché il rischio di fare le cose in primavera sono legate al tempo eh sì perché chiuderci in un ambiente chiuso sarebbe facile ma non è bello come realizzarlo e poi sembra che per esempio nel tempo ci dicono che a 26 gradi domenica magari eh sì sembra perfetto potremmo dare qualche po' di gente che ha voglia di camminare esatto passeggiare vedere darci la mano a farle che queste brave persone sono venute a trovarci con i loro lavori e facciano anche la loro bella figura dell'esposizione che catturino anche l'attenzione delle persone diciamo che nelle nostre cose che facciamo tentiamo sempre nel nostro piccolo in quanto siamo capaci di fare di metterci sempre un po' di cultura un po' d'arte in mezzo perché comunque io sono un po' dell'idea che aiuta a salvare il mondo sì è vero sarà un'utopia non ci credo spero e quindi nel nostro piccolo è quello che dobbiamo fare c'è ancora un'altra cosa da dire che ci saranno anche delle altre piccole cose da vedere dei punti da da vedere quindi uno è obbligato a venire a Pornier Domenica eh sì perché dovrà scoprire queste cose non le possiamo dire tutte adesso no 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 mi sembra giusto devono vederle negozi aperti? eh buona parte dei negozi aperti sappiamo che è sempre eh sappiamo che comunque è soggettivo è sempre difficile in tutti i comuni non è cattivedia con quelli che poi non apriranno ma è il problema che proprio è la domenica qualcuno dice io sono quella dei problemi famigliari qualcosa si che ha delle difficoltà non possiamo obbligare a nessuno ci sono dei negozi aperti hanno risposto anche dei bar che si rimangono aperti anche se è il giorno di chiusura abbiamo la gastronomia che cercherà di darci una mano anche se è il giorno di chiusura ma si sarà aperta anche fino a tardi per dare del servizio a quelli che sono sul posto ci saranno qualche attività che non è aperta domenica si apriranno domenica mattina per darci una mano per far vedere che colpaese c'è e poi io capisco che è difficile si no naturalmente sembra a me facile dire a un altro negozio no no ciascuno le proprie problematiche senza polemica le proprie vicende personali e certo no 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 è comprensibile ci mancherebbe più facile aprire un bar perché è abituato a lavorare quasi tutti i giorni un negozio che forse ha tanti impegni a casa si e che magari gestisce da solo con una sola persona diventa complicato a meno che noi saremo così bravi ma così bravi da invogliarli magari il prossimo anno a tenere aperte perché abbiamo fatto il botto sicuro il botto lo facciamo il botto lo facciamo ma certo il botto lo facciamo sicuro la curiosità la tiriamo da fuori del quarniere la gente verrà come è venuta per altre cose verrà anche per questa perché comunque è una cosa un po' diversa si ma poi bella poi vedere comunque il centro animato il centro storico comunque è bello che passeggeri dalla via chiusa dove non c'è traffico dove non c'è niente è divertente per noi vediamo una cosa poi teniamo aperte le cose un po' particolari il teatro la chiesa esatto sono cose che sono sempre chiuse quindi si possono ammirare in un momento di tranquillità certo poi il quarniere è pieno di punti interessanti si è un po' difficile da portarli tutti in vista però ci sono veramente tanti punti interessanti da poter vedere certo quindi si può portare i porti ci sono tra quelli più vecchi che ci sono in Jonathan per dire quindi forse i più vecchi forse i più vecchi sono quelli di Ponfero diciamo che quindi anche questo si giusto possiamo aggiungere ancora qualcosa se io personalmente vorrei solo ringraziare le signore che io rappresento in questo momento che non ci sono per via del lavoro e una è Cinzia non non dico i negozi dico solo il nome delle persone e poi c'è Tiziana e Mela che sono quelle che ci stanno dando una grande grande ma anzi fa parte del gruppo che si spegneranno e anche le idee vengono anche da loro ed è giusto che siano menzionate bisogna ricordarle perché sono quelle che poi alla fine fanno il lavoro che non si vede certo perché sono quelle che poi si andano a fare anche dopo l'ora di lavoro vanno avanti trovano gli oggetti fanno le cose hanno le idee non si fermano mai bisogna dire che sono fortunato perché poi alla fine bisogna rappresentarle ma con lei oggi qua ma con altre vicende in altri posti ma senza un gruppo affiatato si fa è importante è vero da soli non si fa niente da soli siamo proprio lo dico sempre è già complicato comunque al giorno d'oggi anche in gruppo cioè da soli impossibile no 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 ma poi è proprio no ma poi è giusto comunque che ci siano ognuno le proprie idee è normale quando si confronta e le cose poi escono comunque io ripeto gli invito a tutti di venire a trovarci noi siamo qui a Cognier siamo tutti i portici siamo tutti aperti anche tutte le attività sulla piazza sono aperte quindi abbiamo anche altri servizi aperti c'è un po' di tutto passare una domenica tranquilla comprare qualcosa vedere quattro fiori fare qualche complimento a qualcuno non guasta venite pure a farlo non noi fatelo a chi lavora chi fa chi inventa chi fa della sua passione un arte ma poi anche i bambini insegnarli che cos'è il fior il profumo insegnare il profumo ai bambini che non si sentono più che non si portano più i bimbi tra i boschi anzi per dire la verità i boschi che non hanno neanche più il profumo fa un po' non direi già non siamo tristi non siamo tristi non siamo tristi non siamo tristi diciamo che è giusto farli conoscere anche a loro benissimo quindi vi aspettiamo domenica 14 aprile dalle 9 alle 18 a Cornè per E' Primavera a Cornè un evento imperdibile e continuate a seguire BTW News